Una legge a tutela dei bambini. Immagina se un giorno tua moglie o tuo marito non potesse andare a prendere tuo figlio o tua figlia a scuola e ti chiedesse di andarci al suo posto. Immagina se le maestre non ti lasciassero il bambino. Immagina se non potessi prendere decisioni importanti per la salute di tuo figlio, o magari assisterlo in ospedale se fosse ricoverato. Immagina se a causa della morte di tua moglie o di tuo marito, tuo figlio o tua figlia venisse considerato dalla legge un orfano e quindi diventasse adottabile. Non sarebbe solo la tua vita essere sconvolta, ma anche quella di tuo figlio o di tua figlia. Ecco, in Italia esistono migliaia di famiglie composte da due mamme o due papà. Famiglie costruite su responsabilità, impegno quotidiano, rispetto e amore, come tutte le altre. Ma che a differenza delle altre non hanno gli stessi diritti sulla cura dei figli. Quando si tratta di minori, le scelte politiche devono garantire per primo il loro interesse. E chiunque abbia figli sa che questo significa avere accanto le persone che si sono prese cura di te. Per questo è necessaria una legge che tuteli queste bambine e questi bambini. Dando ad entrambi i genitori la possibilità di riconoscimento alla nascita e l'estensione di tale riconoscimento ai minori già nati.